I giovani protagonisti dell'edizione 2019 della Sacra Rappresentazione dei Talami di Orsogna. I quadri biblici viventi hanno sfilato per le vie del paese della provincia di Chieti. Figure giovanili nel Primo Testamento è stato il tema conduttore dell'evento che viene organizzato dall'Associazione Culturale Talami, preseduta da Lidia Ceccarossi. Quest'anno c'è una nota in più che avvicina ancora di più i giovani ai Talami. L'immagine dei giovani è sempre stata per noi Talami una cosa gioiosa. Poi quest'anno con questa scelta ancora di più perché si avvicinano ancora di più all'aspetto religioso dei Talami. Il rito antichissimo risalente agli albori della cristianità è in onore della Madonna del Rifugio che all'alba di un martedì di Pasqua di un'epoca imprecisata apparve ai contadini del luogo su un grande albero di fico. La festa del martedì di Pasqua viene replicata nel periodo estivo, il 15 agosto. Adamo ed Eva a crescere trasgredendo il tema del primo Talamo. Esau e Giacobbe, il difficile compito di crescere insieme, forza fisica ed astuzia. Giuseppe, un giovane sognatore, i temi del secondo e del terzo Talamo. Tobìa e Sara, il coraggio di aprirsi all'amore. Davide e Gionata, la fedeltà dell'amicizia, i temi del quarto e quinto Talamo. Daniele, saggezza e fortezza e la giovane Maria fa visita all'anziana cugina Elisabetta, l'incontro fra due generazioni, i temi del sesto e del settimo Talamo. Tante le iniziative collaterali, tra le quali adotta un Talamo e per l'edizione 2019 il primo Talamo è stato adottato dall'Istituto Alberghiero Marchitelli di Villa Santa Maria, guidato dalla professoressa Giovanna Ferrante, che è anche assessore comunale alla cultura di Orsogna. Oltre alla sfilata dei Talani, quindi quadri biblici, Orsogna festeggia anche un'altra particolare tradizione che la caratterizza dal punto di vista culinario. Certamente i giovani chef di Villa Santa Maria si cimenteranno nella riproduzione, tra virgolette, del cosiddetto piatto della tradizione, cioè gli gnoccune ristufiti. Ed è una tradizione che risale ai tempi remoti, lorquando bisognava preparare il pasto tra l'uscita del quinto Talamo e del sesto Talamo e tutte le famiglie vi volevano partecipare. Per cui le donne tornavano in fretta a casa, mettevano questa pasta, la scolavano, la condivano e poi in fretta in fretta condivano la pasta per poter essere poi preparata e assaggiata al ritorno dalla visione del sesto Talamo. Grazie Grazie Grazie